Musica In questa edizione del LED News, LED Dia smantella un gruppo mafioso, a capo una donna, Agata Balsamo, moglie del boss Orazio Privitera, attualmente detenuto in regime di 41 bis. Era lei che manteneva i contatti tra il marito e i singoli associati. Perquisizioni e arresti sono stati condotti nelle province di Catania, Siracusa, Milano, Torino e in Germania. Vertenza Micron, oggi tavolo tecnico alla Comune, alla presenza dell'assessore regionale delle attività produttive, l'innavancheria e dei sindacati. Carenza di personale infermieristico, banchetto in informativo del coordinamento nazionale infermieri. Il problema della sicurezza ed Italia lo ha comparto al centro dell'Assemblea del Sindacato Italiano appartenenti alla Polizia. L'Istituto Stanislao Cannizzaro di Catania eroga una formazione mirata alle attività di laboratorio, alla frequenza di stagio aziendali e alla realizzazione di periodi consistenti all'alternanza scuola-lavoro. Inoltre dà la possibilità agli studenti del terzo anno di conseguire prima del diploma una certificazione di qualifica professionale regionale in quanto centro accreditato per la formazione professionale in Sicilia. Il Cannizzaro che gestisce le cinque specializzazioni chimica, elettronica, elettrotecnica, informatica e meccanica, essendo una scuola tecnico-professionale, è inserita all'interno dei finanziamenti del POR Sicilia per i percorsi A e B, più veloci verso il mondo del lavoro. Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro, via Carlo Pisacane 1, Catania, telefono 095 45 15 57, www.cannizzaroct.it. L'esperienza di ieri, la tecnologia di domani. C'era una moglie, Agata Balsamo, moglie del boss Orazio Privitera, attualmente detenuto in regime di 41 bis, a capo di un'organizzazione mafiosa smantellata questa mattina dalla DIA di Catania, operazione condotta in collaborazione con i centri operativi della DIA di Milano e di Torino e il collaterale organismo tedesco BKA. Il gruppo capeggiato dalla Balsamo è quello dei Caratedi, affiliato al più noto clan del Cappello. La donna aveva ereditato la reggenza del clan dall'arresto del marito e l'esercitava impartendo ordini, mantenendo i collegamenti fra il marito e i singoli associati, imponendo il pagamento di somma a titolo estorsivo nonché sostenendo le spese legali per gli associati, attraverso una cassa comune alimentata con i proventi e le estorsioni, dell'imposizione delle guardianie dei terreni e dello sfruttamento di terreni agricoli, da cui sono stati tratti enormi vantaggi economici, frutto del fraudolento accaparamento di erogazioni pubbliche a fondo perduto da parte della GEA, l'Agenzia per le erogazioni di agricoltura, per oltre un milione e mezzo di euro. Centinaia di agenti coinvolti nell'operazione che hanno eseguito perquisizioni e arresti nelle province di Catania, Siracusa e Milano, Torino e in Germania. In particolare sono 27 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, accusata a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, traffico di stufe facenti, porto illegale di armi da fuoco, intestazione fittizia di beni e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'operazione è stata denominata Prato Verde. Nello specifico, in merito alle truffe in anno dell'Unione Europea e relazione ai fondi erogati dalla GEA, questo meccanismo si basava sull'efficacia dell'intimidazione mafiosa su reali proprietari. Sono state individuate anche estorsioni a danno di attività commerciali come quella perpetuata alla titolare dell'area di servizio QAET lungo l'asse dei servizi, in un quadro di assoggettamento e timore generalizzati, estorsioni anche danno al villaggio turistico balneare La Cucaracia. Questa è una caratteristica particolare di questa indagine che dimostra il controllo del territorio che veniva operato dal gruppo. È significativa anche da questo punto di vista, non solo per il meccanismo della truffa che ha consentito al gruppo di avere rilevanti introiti, ma anche perché questo meccanismo consentiva di controllare il territorio, che è una delle caratteristiche delle associazioni mafiosi. Le indagini sono state condotte al marzo del 2011 all'ottobre 2012 con l'asilio di attività tecnica e dichiarazione di collaboratori di giustizia e hanno riguardato un non sodalizio criminale attivo nella piana di Catania, nei quartieri Pigno e Librino della città Etnea e riconducibile al noto boss Orazio Privitera. Insieme alla moglie in posizione di vertice c'erano Giuseppe Privitera e Giacomo Cosenza, noto come Alfonso. Attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e veicolari, nonché pendinamenti, appostamenti e riprese filmate, la DIA ha documentato in diretta incontri tra i sodali e fatto emergere l'attività illecita della consorteria mafiosa, la pianificazione dei reati e l'organizzazione interna. Si ritiene che il sodalizio faccia riferimento all'associazione di tipo mafioso denominata Cappello e in particolare al gruppo dei Caratedi di cui è reggente il Privitero Orazio, marito appunto di Tina Balsamo. Alla stessa veniva ampiamente riconosciuto il ruolo di leadership del gruppo dopo l'arresto del marito e ha manifestato, come abbiamo già detto, grande capacità organizzativa e militare, oserei dire, traducendo in ordini quelli che erano appunto le direttive del gruppo stesso. Non era solo il tramite del marito perché dava vita autonoma al clan in assenza del marito stesso. Significativo poi anche l'uso da parte dell'organizzazione di apparecchi in grado di disturbare la ricezione della trasmissione dei segnali GPS telefonici. Oggi abbiamo dato una risposta positiva, una risposta di impegno dello Stato e di contrasto a un clan sicuramente molto pericoloso perché fortemente radicato sul territorio. Si chiama a Gogarto l'operazione dei Carabinieri di Enna e danni delle famiglie mafiose di Cosa Nostra del clan Cappello che operano fra le province di Enna e Catania. Nella notte scorso sono state arrestate 49 persone per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze studefacenti, estorsioni, rapine, detenzioni di armi ed altro. Le innagini coordinate alla procura distrettuale antimafia di Caltanissetta sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Enna e della Compagnia di Nicosia. Impegnati 300 militari, gli arresti sono stati eseguiti a Regalbuto, Centuri, Peccatena Nuova. L'operazione è stata battezzata appunto Gogart perché tre imprenditori, padre e figli, che sono tra i principali indagati, sono proprietari di una pista di carte vicino a Catena Nuova. In arrivo nuovi commissari nelle nuove province siciliane in attesa che l'Arsa approvi il disegno di legge che prevede l'abolizione delle province. Il provvedimento è stato firmato durante una riunione della Giunta preseduta dal governatore Rosario Crocetta. Il mandato delle gestioni commissariali è scaduto sabato scorso e oggi si è in regime di vuoto amministrativo. Abbiamo ritenuto necessario procedere a nuove nomine di commissari, spiega l'assessore agli enti locali, Patrizia Valenti, fino al tempo necessario per dare all'Aula la possibilità di esitare il testo di legge. Non si tratta dunque di proroghe dei commissari scadenza, ma di nuovi decreti. Gli uffici della Regione stanno già preparando i decreti, dice ancora Valenti, non è escluso che qualcuno possa essere anche riconfermato. La decisione è stata presa, prosegue l'assessore, per consentire che l'Aula possa esitare il DDL e gli emendamenti, tenendo conto che il termine ultimo per un'eventuale indizione di comizi elettorali è il 15 aprile. Fino a quella data stiamo fermi su qualunque decisione per dare all'Aula la possibilità di prendere una decisione, fermo restando che i decreti di nuova nomina saranno a copertura fino a giugno. Intanto è iniziata, tutta e in salita per la maggioranza all'Ars, la strada della riforma delle province, a partire dal voto segreto chiesto in Aula. Così gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 della legge sull'abolizione delle province non passano per soli sei voti. Un vero e proprio campanello d'allarme. In Aula presente anche il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta. Per volere del Sindaco Bianco è stato istituito a Catania il tavolo tecnico permanente per affrontare la vicenda micro in particolare e le situazioni lette navalle in generale, tavolo al quale avrebbe dovuto partecipare anche il Ministro Zononato, ma le ben note vicende politiche romane lo hanno bloccato nella capitale. Ha partecipato invece l'assessore regionale delle attività produttive Linda Vancheri, che promette massimo impegno da parte della Regione nel trovare una soluzione a questa delicata vicenda. La rassicurazione è quella di aver avviato oggi un importante tavolo, che sarà un tavolo operativo. Questo tavolo si occuperà di individuare delle proposte che poi verranno presentate anche al tavolo nazionale. La speranza oggi è stata chiara, perché comunque ci sono le istituzioni, la Regione e il Sindaco che rappresenta il Comune di Catania, che sono in linea. Devo dire che per quanto riguarda la posizione che abbiamo assunto nei confronti dell'azienda abbiamo anche il supporto da parte del Ministero, perché lo stesso sottosegretario all'ultima riunione si è allineato anche alla nostra richiesta di cercare di convincere la Micron a non tornare indietro, perché comunque non possiamo intervenire in un progetto di azienda che ormai è già stato deciso, ma di almeno sedersi ai nostri tavoli per individuare insieme quelli che possono essere dei percorsi costruttivi che possono permettere da una parte di garantire quelli che sono i diritti dei lavoratori, ma dall'altra parte una cosa importante è di non perdere questo know-how, che noi sappiamo benissimo, è un know-how che fa parte di un mercato che è in auge, un mercato che non è assolutamente in crisi e che peraltro è un mercato che per la Sicilia può essere anche uno dei settori più importanti, specie nella fase in cui noi stiamo lavorando sulla nuova programmazione. Quindi l'intesa che si è creata oggi è stata quella di trasformare questo tavolo in un tavolo operativo, tanto da poter allargare anche la discussione al tavolo dal caso Micron e pensare a quello che si chiama il mondo etna valley e quindi da un questo tavolo operativo speriamo pure di uscire fuori con un piano strategico di sviluppo che deve essere supportato alla regione anche in modo concreto, anche come piano industriale. Il sindaco Bianco dal canto suo garantisce che questo primo incontro sarà il primo di una lunga serie. Noi siamo a fianco dei lavoratori della Micron perché sono persone che difendono il loro posto di lavoro, ma anche perché sono una grande ricchezza per la città di Catania. Catania è Catania oggi perché ha anche l'Etna Valley, perché ha lavoratori di altissimo valore tecnologico e sarebbe un clamoroso errore per noi e per il sistema paese se li dovessimo perdere. Saremo a loro fianco operativamente su ogni iniziativa, abbiamo coinvolto la regione, saremo presenti ai tavoli nazionali, chiederemo all'azienda, alla Micron di parlare con noi, di ascoltare le nostre ragioni perché sono tra l'altro lavoratori che producono ricchezza per un'azienda che non è in crisi e quindi non si capisce perché sta licenziando lavoratori verso i quali non ha nessuna ragione di recriminazione. E i sindacati che ne pensano? Luca Vecchio dell'UGL è molto chiaro. Il tavolo tecnico se funzionerà sarà sicuramente uno strumento utile per il territorio perché ricordo che la regione siciliana è stata l'ultima a muoversi all'interno del sistema Italia per poter affrontare seriamente e concretamente la questione della microelettronica. Oggi è stata un'occasione per ripetere le cose che ci siamo dette diverse volte e speriamo che dalle parole si passi ai fatti perché ovviamente la procedura di mobilità della Micron va avanti. Il 7 marzo dal Ministero dello Sviluppo Economico l'avvertenza si sposterà al Ministro del Lavoro quindi non si potrà fare più nulla per risolvere una problematica che incombe su 128 famiglie. Un banchetto informativo voluto questa mattina dal CNI FSI per segnalare quella che è la mancanza di personale infermieristico in tutte le strutture della Sicilia. Ci troviamo al Policlinico ma così come al Policlinico questo avviene in tanti nosocomi della nostra regione. Da qui questo banchetto soprattutto di sensibilizzazione nei confronti degli utenti degli ospedali. Noi abbiamo questa volta come strategia principalmente deciso di coinvolgere i cittadini e fare in modo che prendano consapevolezza dell'importanza dell'infermiere. Abbiamo manifestato in diverse strutture, abbiamo depositato dei ricorsi per stabilizzare gli infermieri precari, abbiamo segnalato tutte le carenze infermieristiche ma ancora non abbiamo nessun segnale. La regione ha solamente consegnato ai sindacati una bozza del piano di rimodulazione dei posti letto e da quella si definiranno di nuovo le dotazioni organiche e lì si vincerà secondo loro, bisogna vedere se combaciano con le nostre versioni e i nostri calcoli, quanto personale infermieristico ancora necessita, soprattutto nel bacino occidentale della Sicilia dove il concorso è stato annullato e quindi lì potrebbero nascere 400 posti. Facendo dei conti, quanti infermieri servono in tutta la Sicilia? 600 sicuramente, 100 per provincia quasi. Numeri importanti che appunto mancano e questo porta anche alla sesperazione sia di chi lavora ma anche dell'utente. Da qui purtroppo dei fatti gravi come le minacce verbali ma anche fisiche che a volte subiscono gli infermieri. È notizia proprio di queste ore? Sì, siamo pochi, è facile sbagliare, sale la tensione, le persone si esasperano e ci sono tantissimi casi di aggressione, non solo verbale ma anche fisiche, a partire dai grandi ospedali, nei pronto soccorsi e emergenze, nei servizi psichiatrici e per questo noi ieri abbiamo presentato nuove denunce per le nuove procure siciliane chiedendo che principalmente ci siano più controlli perché molti ospedali sono senza posto di polizia e soprattutto di solidarietà e comunque lo so che non ci può risolvere la questione della carenza infermieristica però la consapevolezza di fare degli accertamenti perché si sbaglia in pochi, ci denunciano e noi siamo ormai tutti costretti a stipulare delle polizie assicurative per colpo grave che le aziende non tutte garantiscono, sono sempre coste e spese e tutti i carichi di lavoro sempre a carico degli infermieri e non ce la facciamo più. Il problema della sicurezza della nostra città è stato al centro dell'Assemblea del SIAP catenese, il sindacato italiano appartenenti alla polizia, un'assemblea che è servita a fare il punto della situazione ma anche per protestare contro le politiche della sicurezza operate fino ad oggi che indiscutibilmente non garantiscono appieno le esigenze dei poliziotti e dei cittadini, quali la spending review con il blocco del turnover, le pensioni e i contratti, la riforma delle carriere e l'unatantum. A livello locale come voi ben sapete noi abbiamo diversi problemi che vanno dalla microcriminalità all'illegalità diffusa, l'anno scorso mi pare che i dati sono stati allarmanti, sono aumentati gli scippi, sono aumentate le rapine, questo lo sapete benissimo, è chiaro che non è per demerito delle forze dell'ordine, abbiamo una situazione di controllo del territorio ancora divisa a metà con l'arma dei carabinieri che sostanzialmente ha una forza minore di impiego rispetto alla polizia di Stato, è vero che tutti quanti fanno un grande sforzo, gli arresti arrivano ma si potrebbe fare molto di più. Abbiamo il problema delle legalità diffusa, cosa che magari teme di più il cittadino durante la quotidianità e cui noi diamo delle risposte con una carente sempre presenza dei vigili urbani che ormai è notorio a tutti quanti, queste sono le condizioni. Io dico che anziché lamentarci su quello che è, dovremmo cercare di migliorare quello che abbiamo e quindi ho lanciato più volte la proposta della ristrutturazione della questura non perché vogliamo un locale bello, bello e nuovo ma perché effettivamente avere 24 edifici dislocati su tutta la provincia che ospedano 2.500 poliziotti di cui oltre 150 sono impiegati solo per le vigilanze e per portare carte e notifiche è una dispersione di uomini che non ci possiamo più permettere, che possiamo rimettere immediatamente sul territorio. Quale soluzione? La spending review sostanzialmente impedisce all'amministrazione pubblica ormai di contrattare nuovi locali sia per un problema di costi sia un problema anche di rapporto metro quadrato operatore, quindi l'unica soluzione per me adesso fattibile immediatamente se ci sono le condizioni, se il comune magari ci mette la sua opera è quella dell'acquisizione della somma ruga per poter fare l'installazione di polizia come si deve, sono oltre 100 metri quadrati già previsti come forze di installazione militare in cui la polizia di Stato o altri apparati dello Stato che servono per il pubblico soccorso possono prendere subito alloggiamento risparmiando notevoli quadrini. Ricordiamoci che oltre 3,8 milioni di euro servono solamente per il mantenimento di queste strutture, una cifra enorme che può benissimo essere rivoluzionata per quello che è la specifico controllo del territorio. Questi sono i fatti più salienti, poi abbiamo il problema nostro del corpo con un ridimensionamento degli stipendi, con una compressione degli straordinari, cioè noi abbiamo una media di operatori che lavorano 8 ore al giorno, una media, con pagamenti di straordinari che avverranno forse fra un anno o due anni. Dopo i lavori di ieri per la posa dell'asfalto nell'area della rotatoria del Tondo Gioieni, a partire dalle 22 di oggi cominceranno a lavorare gli operai che dovranno realizzare la segnaletica orizzontale. È previsto che vadano avanti fino a notte. Oggi sono stati sistemati anche gli ultimi segnali stradali verticali, quelli realizzati appositamente e domani tecnici dell'ufficio traffico urbano che dovranno emettere l'ordinanza di apertura al traffico della rotatoria durante un sopralluogo e seguiranno controlli su tutta la segnaletica. L'ordinanza di apertura della rotatoria partirà presumibilmente da giovedì mattina, quando la zona sarà pattugliata dai vigili urbani.